salve a tutti benvenuti bentornati come sempre invita iscriviti lascia un like condividere commentare e oggi voglio affrontare un aspetto della comunicazione che è la percezione d'accordo tutto quanto viene dopo un lungo periodo in cui ho visto a seguito di quello che io carico sia sul canale di youtube sia su tik tok che sono due piattaforme dove non sempre pubblico le stesse cose perché sempre su tik tok adesso è possibile almeno fino adesso pubblicare delle cose che su youtube violerebbero le norme sul copyright però ci sono un bel po di persone che quando vedono un contenuto so su youtube o su tik tok dove c'è un politico oppure c'è un personaggio famoso oppure comunque c'è un volto d'accordo di noto che pensano che quel contenuto sia stato pubblicato dal protagonista in questione quindi se c'è un video che parla di salvini è salvini che l'ha pubblicato se un video in cui c'è uno spezzone di un reportage delle iene è pubblicato dalle iene invece no bisogna verificare bisogna vedere chi l'ha pubblicato perché queste persone poi che percepiscono che chi ha pubblicato e il diretto interessato sparano a zero commenti soprattutto di insulti volgarità minacce e altro è abbastanza preoccupante e soprattutto c'è anche una percezione sbagliata della realtà tutto quanto è riconducibile a uno degli ultimi video che ha caricato su tik tok che parla di thomas salme un pilota anzi ex pilota di aerei che è stato beccato perché lui non era un vero pilota non aveva la licenza non aveva il brevetto per pilotare non entro nel dettaglio potete vedere il video su tik tok però c'è un commento particolare che diceva e vedete però francesco schettino il comandante della concordia è libero sebbene abbia fatto una strage la percezione che ci sia un responsabile di una strage libero francesco schettino è stato condannato in cassazione l'ultimo grado di giudizio a 16 anni di carcere è in carcere non è libero però noi l'abbiamo visto in tanti talk show e quindi pensiamo che sia libero questa è la percezione